signore signore buongiorno ma che dico buongiorno buonasera anzi buon anno il 2020 è quasi finito grazie a dio o grazie a me allora com'è andata male malino malissimo siete in buona compagnia e come andrà il 2021 chi lo sa se guardate in internet troverete sicuramente i soliti siti di fake news che vi annunceranno qualche nuovo complotto e profili twitter di politici che vi diranno che andrà tutto bene se fate il tifo per loro oppure andrà tutto malissimo se fate il tifo contro loro ma non siete stufi di farvi prendere in giro da tutti questi contaballe improvvisati basta è il momento di tornare ad ascoltare gli esparti dei contaballe che fanno questo di lavoro da almeno 3.000 anni maghi e fattucchieri tipo me esatto sono il mago gallino modestamente ho il record di previsioni non avvenute del futuro non so proprio niente non ho mai vinto nemmeno un gratta e vinci dell'esse lunga e quando gioco a sette e mezzo coi vecchi ecco quelli mi spennano non so neanche che tempo fa adesso figuriamoci se indovino cosa succederà fra un mese ma almeno sono bello e se mi ascolterete magari alla fine troverete qualcosa di più prezioso di una previsione cosa boh e come fu a saperlo se volete scoprirlo e se volete sapere cosa succederà o non succederà nel 2021 dovrete connettervi alla mia pagina youtube dal primo gennaio alle ore boh tanto vedrai peggio di paolo fox dell'anno scorso azzeccherò chissà non lo so non ce non lo posso fare peggio di paolo fox o forse sì o forse no allora ci vediamo su youtube vi aspetto